Quarta e ultima giornata del convegno mediterraneo frontiera di pace che si sta svolgendo a Vari in questi giorni. Oggi l'elaborazione del documento che sarà presentato domani a Papa Francesco. In collegamento per noi, come di consueto, Alba Di Palo per la cronaca della giornata. Si sono conclusi i lavori di questo convegno e proprio il presidente dei Racei, il cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato l'ispiratore di queste giornate, che hanno avuto come obiettivo quello di rendere effettivamente concreta la fratellanza tra chiese che vivono in paesi bagnati dal mare mediterraneo. Ora, ha detto a margine dei lavori, ha detto il cardinale Bassetti, siamo fratelli non solo più per titolo, ma perché ci conosciamo e possiamo così condividere realmente quelle che sono le problematiche e le gioie caratterizzanti le nostre chiese. Il messaggio che viene fuori da queste giornate di lavoro intenso, che ha coinvolto 58 tra patriarchi, cardinali e vescovi provenienti da 20 paesi del bacino mediterraneo, è stato quello di dimostrare, di aver capito e colto il messaggio voluto da Papa Francesco, che ha voluto che queste chiese, che tutte le chiese, diventino davvero amiche e sorelle, che lavorino insieme per porre fine alle diversità e ai conflitti. Sono stati infatti citati paesi ancora martoriati dalle guerre, come il Libano, la Siria, la Terra Santa stessa, in cui la conflittualità data dalle armi è associata anche ai conflitti di carattere religioso. Allora, sentiamo insieme le parole del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti. È stato un incontro veramente, direi, di una fraternità totale. Le problematiche dei nostri paesi le conosciamo. Quello che è emerso come maggiore desiderio da parte di tutti, ecco, continuare. Perché se no sarebbe una cosa bellissima, ecco, che rimane lì, magari utile. E quindi adesso abbiamo questa sfida di trovare tante forme per continuare, in modo che l'iniziativa si traduca soprattutto, ecco, a favore dei giovani, della famiglia, della pace, contro la produzione delle armi. E così, perché bisogna anche trovare gli strumenti giusti per favorire la pace. E la gioia, la fede e la libertà di professare la propria religione sono stati al centro dell'intervento del cardinale Sacco, l'arcivescovo di Bagdad. Lui ha evidenziato che lì i cattolici sono minoranza, sono assediati da un fondamentalismo molto spesso aggressivo e violento, ma l'aver reso noto questa situazione, in queste giornate, è diventato l'elemento più importante perché, ha detto, c'è stata la possibilità di conoscersi e scoprire realtà. Naturalmente l'obiettivo ora è far sì che quanto deciso in questi giorni possa davvero concretizzarsi in azioni concrete a favore della pace. Allora, ascoltiamo insieme l'arcivescovo di Bagdad. In Oriente c'è questo fondamentalismo, conflitti, guerre, per il traffico delle armi, ma anche la corruzione. Per noi cristiani c'è anche, per dire la verità, la persezione. Dunque, noi dobbiamo essere uniti per poter affrontare, con un linguaggio profetico, ma anche coraggioso, queste sfide. La solidarietà, la vicinanza fra noi, ma non solo nelle parole, i discorsi, ma con le azioni. Abbiamo proposto tante cose, tanti punti per far durre nel concreto, perché la gente è stanca, solo sempre conveni, incontri, eccetera, discorsi, ma sul concreto, sul campo non ci sono azioni. Dunque, c'è bisogno degli atti e ci saranno, speriamo. E anche le parole dell'Arcivescovo di Rabat, il Cardinale Lopez, sono state all'insegna della gioia, perché ha detto noi siamo piccole chiese, siamo minoranza, ma non è vero che siamo insignificanti. E quindi le sue parole sono di fiducia e soprattutto coinvolgono tutte le chiese del bacino mediterraneo e del Nord Africa, quindi l'Algeria, il Marocco, l'Egitto, che ancora vivono situazioni di difficoltà legate appunto alla pratica religiosa. Allora, ascoltiamo insieme le sue parole e soprattutto i suoi propositi. Io sono molto contento perché ho potuto approfondire la conoscenza tra le chiese che sono attorno al Mediterraneo. Concretamente sono molto colpito di conoscere le sofferenze che passano le chiese del Medio Oriente, del prossimo Oriente, ma anche sono contento che le nostre chiese del Nord dell'Africa, che sono quasi invisibili, grazie a questo incontro sono tornate un po' più visibili, più conosciute. L'Algeria, il Marocco, la Libia, la Tunisia. E questo mi fa piacere e sono contento. Penso che noi abbiamo qualche cosa a dire alle vecchie chiese dell'Europa. Noi siamo delle chiese insignificanti per la quantità, siamo chiese minuscole, ma abbiamo un significato, insignificanti ma significative, perché abbiamo un messaggio di gioia, di speranza, perché viviamo in minoranza, ma entusiasmati dalla nostra fede. Siamo chiese giovani dove ci trovano più uomini che donne, più giovani che adulti e più neri che bianchi. E viviamo la nostra fede in minoranza, in un ambiente musulmano al quasi 100%, e davvero siamo contenti e gioiosi della nostra fede. E terminati questi giorni di lavoro con la redazione del documento che verrà consegnato domani a Papa Francesco, la città di Bari, si sta ancora preparando ad accogliere il Santo Padre con i preparativi che riguardano ovviamente la celebrazione eucaristica e la visita in Basilica. Allora ascoltiamo che cosa sperano, dica domani Papa Francesco, i baresi. Contento dell'arrivo del Papa? Senz'altro sì, ogni tanto ci vuole un po' di religione in Puglia. Che cosa si aspetta da questa visita? Più pace, più tranquillità. Speriamo che dà qualche parola di conforto. Non soltanto parole, ma i fatti. Signore, siete contenti dell'arrivo del Papa? Come no! Che cosa si aspetta da questa visita? Niente, voglio che dà un po' di serenità, un po' di pace, che va meglio il mondo e metta un pensiero buono a tutti coloro che ne ha bisogno. Siete contenti dell'arrivo del Papa qui a Bari? Sì, niente di che, comunque sì. Che cosa si aspetta come messaggio? Sicuramente un messaggio di pace e di tranquillità e pace più che altro. Queste chiusure al traffico in questi giorni mi hanno dato fastidio? È comprensibile, siete tolleranti? No, no, vabbè, ma è normale. Penso che sia normale ed è giusto anche che siano chiusi. È contenta dell'arrivo di Papa Francesco? Ma non tanto. Perché? No, no, non lo so perché. Perché è un Papa particolare rispetto agli altri, quindi perlomeno è più attivo degli altri, quindi mi piace. Che cosa si aspetta? Proprio niente, la messa. E la celebrazione eucaristica vivrà un momento che potremmo definire alquanto pugliese, perché il musicista che ha arrangiato i brani sacri che domani accompagneranno la celebrazione eucaristica è di Corato, si chiama Antonio Molinini e noi lo abbiamo incontrato. Vediamo insieme allora e scopriamo insieme chi è, poi la linea. Luca, se non hai domande, puoi tornare allo studio. Queste sono le note musicali di Segno di Unità, il canto che domenica accompagnerà il momento dell'offertorio della celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco a Bari. Ad arrangiarlo è stato lui. Si chiama Antonio Molinini, ha 38 anni ed è di Corato ed è un musicista arrangiatore. Nonostante non sia la sua prima esperienza con un pontefice, è comunque emozionato. Beh, è un'emozione grande perché io collaboro già dal 2004 con Don Antonio Parisi, il quale si è fidato di me, ed è stato il primo a farmi lavorare come arrangiatore, orchestratore, dandomi questo compito quando abbiamo inciso il primo disco, Eucaristia a Cura della Domenica. Poi questo disco è stato anche eseguito live quando il Papa è venuto a Bari nel 2005. Io ero un'orchestra e quindi la cosa è stata particolarmente emozionante, una sorta di battesimo, ma tutte le volte che questo si ripete ovviamente mi sento investito di un incarico importante. Arrangiare i canti non è semplice perché è necessario rispettare gli 80 elementi del coro diocesano. Lei ha arrangiato quasi una decina di questi canti. Qual è stato quello più complicato da fare? Beh, forse il canto finale ed anche il canto d'ingresso perché hanno la responsabilità di dover essere abbastanza trionfali, insomma, un'apertura e una chiusura di un grande evento. È difficile non in assoluto, ma relativamente al fatto che il pittore in base a quello che ha sulla tavolozza ti darà la sua idea del quadro e in questo caso l'orchestra non era quella del 2004, un'orchestra sinfonica, ma un'orchestra più piccola, quindi meno colori, meno timbriche, meno possibilità di andare a creare l'effetto desiderato. Tuttavia con un po' di mestiere si riesce a fare un ottimo lavoro. Antonio, che si definisce un pianista per costruzione, da bambino, ha secondato le volontà di mamma e papà, è un amante degli ottoni e domenica sarà seduto tra le autorità. Che ricordo porterà di questa esperienza? Beh, il ricordo di... è uno strano ricordo perché prima ero piccolo, ero molto giovane e tutti quelli che suonavano per me erano adulti, mi guardavano in maniera strana. Adesso invece le cose si sono un po' invertite. Ho visto un'orchestra di giovanissimi perché l'orchestra è composta da ragazzi, studenti del Conservatorio di Bari che mi hanno guardato tutti dandomi del lei. Io mi sono sentito imprevisamente vecchio e quindi questa è un'esperienza, è un ricordo di crescita che c'è stato in questi ultimi 15 anni. Parlando di generi musicali, visto che lei è anche un musicista, Papa Francesco, secondo lei, a quale genere potrebbe essere associato? Non lo so, mi viene in mente il tango, visto che è argentino, insomma. Io l'ho scritto un tango per l'orchestra sinfonica che è stato anche seguito dall'orchestra della provincia nel 2007 sarebbe carino farglielo sentire anche se non credo sia semplicissimo, però magari lo gradisce.